ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e questa è la mia nuovissima postazione trek racer ragazzi che appoggiata su un magnifico tappeto personalizzato con il logo di sim drivers non so se si vede ragazzi eccolo qua allora ragazzi tr 160 della trek racer io devo ringraziare assolutamente tutto il team arc team di pavia in particolare andrea rossetti e alessandro e claudio per la loro disponibilità e per la loro professionalità perché veramente sono stati fantastici quindi grazie ragazzi veramente perché grazie a voi la postazione finalmente a casa ed è montata ragazzi io cosa cosa devo dirvi di una postazione in profilati di alluminio che parla da sola perché è fatta da una decina di slot da 160 x 40 da 8 montanti da 120 x 40 quindi già la qualità si vede qui per quanto riguarda l'alluminio che vi arrivano 8 colli dove ogni singolo pezzo è imballato e stra imballato e protetto che c'è tutta la bulloneria che c'è un manuale online che praticamente vi spiega passo passo come dovete montare la postazione anche se il grande andrea mi ha detto qui è il link buon divertimento perché comunque ci vogliono circa 10 15 ore di lavoro per chi non ha esperienza perché insomma ci sono un bel po di elementi da unire e tante regolazioni da fare i manuali vi danno la mano anche se onestamente ci sono delle cose scontate che dovrebbero non dovrebbero essere ad esempio come l'impostazione della regolazione della distanza dei due montanti rispetto al sedile alla pedaliera quindi magari andrea se puoi segnalarlo di dare una forchetta di regolazione in base all'altezza dei piloti sarebbe veramente interessante per quanto riguarda l'utente finale all'idea di questa piccola cosa come segnalazione come critica costruttiva devo dire che la qualità in generale di questa postazione è veramente ineccepibile è veramente incredibile ragazzi perché già soltanto il supporto per quanto riguarda le basi e della pedaliera che sono fatti in acciaio al carbonio che praticamente sono inflessibili e sono da 9 mm preforati per mettere qualsiasi tipo di base qualsiasi tipo di pedaliera sono veramente incredibili c'è la sicurezza che vi danno la stabilità la fermezza è una cosa incredibile un peso che bisogna bisogna portarli per capire di che cosa stiamo parlando poi questa postazione la possibilità di essere regolata in praticamente in tutto in in altezza fino a 74 cm stiamo parlando non è che voglio dire qua ci entrano tutti anche giganti da 2 metri e 60 riescono ad entrare e con la possibilità di personalizzarla come si vuole lasciate stare i led truzzissimi grazie carmello per questo termine che ho aggiunto io perché a me piace così però anche i piccoli dettagli come la placca qui scritta track racer la possibilità di mettere qualsiasi tipo di sedile scegliere il tipo di slitta che si vuole rialzata abbassata come volete la possibilità di mettere porta tastiere porta mouse porta tablet porta quarto monitor supporto triple screen integrato o esterno porta pc come il mio che io praticamente l'ho testato mangiandomi una matriciana seduto sopra senza nessun tipo di problema e ragazzi un metro 82 per 106 chili che sono un bue praticamente e non si muove ho fatto anche un video che vi posterò qui dove praticamente io mi alzo sostenendomi dal braccio del triple screen dove c'è una leggera flessione ovviamente fisica dove però la postazione non si muove giusto per farvi capire la fermezza e la stabilità di questa postazione una qualità veramente che non c'è nulla da dire ragazzi non c'è nulla da dire è veramente bellissima e l'esperienza di guida è veramente fantastica proprio data dal fatto che questa stabilità e questa inflessibilità dei vari supporti vi restituisce il massimo possibile delle potenzialità delle vostre basi che vi producono le force feedback quindi la godibilità dell'esperienza di guida è veramente spaziale e che cosa ci si può aspettare nella postazione di questa ovviamente il massimo possibile e tr 160 della track racer il lavoro lo fa e lo fa egregiamente e per quanto riguarda il prezzo i prezzi rispecchiano quelli che sono attualmente le offerte sul mercato ragazzi è ovvio che più mettete accessori e più lievi del prezzo però il prezzo di base della postazione senza accessori in più è quello che è in linea con quello che è il mercato anzi devo dire la verità ho risparmiato anche qualcosa passando da arc team direttamente quindi ragazzi cosa aggiungere a questa fantastica postazione niente che la mia esperienza personale è del tutto positiva sono veramente contentissimo oltre al prodotto in sé anche dal fatto di aver incontrato delle persone fantastiche che onestamente sono danno i consigli giusti danno l'assistenza giusta ragazzi quindi sono veramente contentissimo niente cercherò di approfondire un attimino l'argomento quando ce ne sarà occasione nei prossimi video abbiamo ancora la p2000 da recensire abbiamo anche la csv 2.5 perché è vero che non ne abbiamo parlato ma perché non c'è un direct drive eccetera quindi non esitate a lasciare un commento qui sotto ragazzi lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale ragazzi se non avete ancora fatto tanto e gratuito noi ci vediamo prestissimo da Fabrizio è tutto un abbraccio ciao